A parte il contenuto di questo video voglio vedere se YouTube mi fa fare visitazioni a questo video che farà cagare Rispetto a quante me le fa fare in media ai video belli Perché in questo video andrò solamente a tagliare un filo che non funziona Questo è un cavo USB-C, USB-A Non so di che cosa sia però non funziona, l'ho provato ieri e non funzionava L'ho provato un attimo fa e non funziona E quindi dato che lo devo buttare Oh guarda che bello E dato che lo devo buttare via lo stesso Tanto vale tagliarlo C'è così giusto per vedere un po' cosa c'è dentro Quindi speriamo abbastanza i nostri forbici 3, 2, 1 Fatto E lo c'è qua dentro adesso No scherzo eh Una volta che non posso prendere la scorsa se non è collegato alla corrente Quindi ok E adesso ho due cavi che funzionano a meno di prima Boh non è successo veramente niente Anzi sai cosa tanto perli taglio anche un altro pezzettino Facciamo così Ok sono anche riuscito a smembrarlo Vediamo Aspetta che vedo meglio che cos'è Poi rimetto una foto forse Quindi non c'è proprio niente da vedere in questo video Era più un esperimento Oggi è il primo novembre E' già uscito prima il video della postazione Un attimo che taglio a questo pezzo che in più mi da Mi triggera tantissimo Boh io ho finito qua Ciao 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 Grazie.